Qui abbiamo vari attrezzi, gli aratri che qua vengono chiamati sciloria, ancora una rete, non so neanche qua vicino. Questo invece da capo nero, lo vedrete ancora adesso ai mercati quando portano il bestiame vivo, con le leghe, tacchini, galline, eccetera, per portarli vivi si strattonano un po'. Adesso li fanno di ferro come quello là fuori. Però questo è fatto proprio col coltellino, uno per uno, furandolo con quei trapani che avete visto, vedete, questo è fatto a mano con un bellissimo oggetto.